Hillary Clinton ha già incassato il primo voto delle presidenziali statunitensi dell'8 novembre. Obama ha già infatti espresso la sua scelta nel seggio di Chicago. Il presidente aveva annunciato il voto anticipato qualche giorno fa durante un'iniziativa per la raccolta fondi per i democratici. Intanto, a poco più di un mese dalla fine del suo mandato, Obama registra un alto indice di popolarità del 55%.